Mi occupo da anni della ricerca sui linfomi e io e il mio gruppo di ricerca siamo riusciti ad identificare nuove strategie terapeutiche in grado di distinguere i diversi tipi di linfoma e siamo impegnati nella messa a punto di nuovi approcci terapeutici il più possibile personalizzati in grado di salvare in futuro sempre più vite. Ogni anno in Italia migliaia di persone, circa 15.000 persone si ammalano gravemente di linfoma, che è una malattia che colpisce le cellule del sangue. Io mi occupo della ricerca sui linfomi perché la ricerca è un tipo di lavoro assolutamente indipendente, creativo basato su una forte passione personale. Grazie. Grazie.